Io vorrei fare un po' molto importante, ma prima di iniziare questa idea di l'ANTA, volevo dire la parola presidenza del GIC, una lada di iniziative che il Filippo non è che sta facendo, che non lo potrebbe essere l'ANTA, in effetto, il Filippo di distante puntata della reazione degli anni, e il Filippo non è che, con questo ultimo esempio, si accenna il 23 giugno. Vorrei assurire questo un po' breve, se non magari iniziative in Italia come il C, che è presente dall'ANTA in Palestina, la propizione sine qua non è, appunto, almeno in due soluzioni fondamentali. La prima è quella che il ritorno immediato negli operatori operatari nella striscia di piasa, in questo momento che le collaborazioni sono a Gerusalemme, e continuiamo a pressionare per entrare nella striscia di piasa, ma, siccome ci stavano le personalità autorevoli, come il segretario Gliatti, il segretario delle Nazioni Unite, lo stesso Presidente della Repubblica italiana, e lo stesso onorevole Passino qua presente, di un cessato e poco immediato, e soprattutto di garantire sia l'entrata degli aiuti umanitari, che la riuscività a parte umanitari di prestare soccorso alla popolazione. Grazie.